Con oltre 6 kg per abitante e un aumento del 20% rispetto al 2014 della quantità complessiva di rifiuti elettrici ed elettronici raccolti, Piacenza si distingue tra tutte le province della Regione Emilia-Romagna superando l'obiettivo dei 4 kg per abitante fissato dall'Unione Europea. Sempre Piacenza è la provincia della Regione con il maggior numero di centri di conferimento in rapporto agli abitanti, 17 ogni 100.000, per un totale di 50 centri distribuiti su tutto il territorio, ai quali nello scorso anno sono arrivate 1.825 tonnellate di rifiuti composti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. I dati emergono dal dossier annuale Emilia-Romagna realizzato dal Centro di Coordinamento RAE e illustrato oggi da Paola Gazzolo, Assessore regionale alle politiche ambientali e da Sara Mussetta della Segreteria Tecnica del Centro di Coordinamento RAE, dal quale emerge, oltre ai brillanti dati piacentini, la conferma per il 2015 del secondo posto in Italia della Regione Emilia-Romagna per quantità raccolta, con oltre 23.000 tonnellate, l'8% in più rispetto al 2014. Quest'anno possiamo dare alcuni dati estremamente positivi perché cresce la raccolta dell'8% in Emilia-Romagna, ma abbiamo da questo punto di vista superato l'obiettivo 2015 della raccolta pro capite per abitante superiore ai 4 kg, noi siamo a 5,33 come media regionale considerando che tutte le nostre province superano questo obiettivo 2015 e da questo punto di vista abbiamo poi anche il dato importante dell'aumento dei centri di raccolta, perché è chiaro quanto sia importante la prossimità per il cittadino. Per quanto riguarda il tipo di rifiuti, ad essere smaltiti in quantità maggiore, con il 32%, sono i grandi bianchi, cioè gli elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie. Al secondo posto TV e monitor, 26%, seguiti da frigoriferi, congelatori e condizionatori, 25%, a chiudere la classifica i piccoli elettrodomestici e i computer, 16% e le sorgenti luminose, 0,5%.